Sveglia alle 5 per trovare un posto libero al piazzale del porto, chi non ce la fa resta in piedi, ma alla messa dell'aurora non si può rinunciare. Un appuntamento fisso per i termoresi nel secondo giorno di festeggiamenti dedicati al patrono San Basso, che si ritrovano davanti al mercato del pesce al sorgere del sole. Una cornice molto suggestiva che ha richiamato persone di ogni età per rinnovare la propria devozione. È importante perché per i marinai prima di tutto, e poi è una tradizione che viene da molto tempo, quindi da secoli, sempre questo fatto si è fatto. Quindi è una cosa per noi che sentiamo termoresi, che ci sentiamo devoti a San Basso, facciamo questo fioretto a venire presto la mattina. Siamo termoresi e noi per San Basso, il 3 per andare per mare e il 4 per questa messa. Poi San Basso è San Basso. Se volete vedere le persone, i termoresi, con una fede senza fanatismo, bisogna venire alle 6 la mattina qui ad ascoltare la messa e riportare San Basso in cattedrale, perché è una tradizione che deve sempre crescere, non diminuire, e rinnovarsi sempre più. La messa è stata celebrata dal bescovo Gianfranco De Luca, presenti sacerdoti per le confessioni, e il parroco Don Gabriele ha ricordato così il valore di questo momento. Ci si ritrova insieme per onorare il Santo Patrono, per ascoltare la parola di Dio, per partecipare all'Eucaristia, per pregare insieme, per sentirsi popolo termolese. Dopo la funzione, la statua di San Basso è stata portata in spalla dai pescatori fino alla cattedrale, una processione che si è snodata nel centro storico. La messa dell'Aurora è anche occasione per tanti termolesi che vivono fuori in Italia o all'estero, per ritrovarsi e ricordare tante esperienze di vita. Mi chiamo Pasquale Ludovico, vengo dal Belgio infatti, ho sempre avuto una devozione grande per San Basso, come mio papà, che se n'è andata da Termoli per fare il minatore lassù. E mi ricordo che una volta lui ha avuto gravi problemi di salute, abbiamo pregato tanto San Basso, finché papà potesse ritrovare Amazzo du Castile. E così è stato, e ogni anno quando posso vengo a ringraziare San Basso qua. Termoli è sempre nel mio cuore, anche se sono 56 anni che sono a Milano, quando torno a Termoli e poi specialmente oggi assistere a questa messa meravigliosa e vedere tutti i miei amici d'infanzia è stata una vera emozione. Viva Termoli, viva San Basso! Viva San Basso la nostra!